È iniziato il conto alla rovescia per l'evento più atteso dagli amanti delle marce e delle passeggiate all'aperto, la Marcia delle Ville, quest'anno giunta alla 43esima edizione. L'appuntamento organizzato dall'Associazione Podistica Marciatori Marliesi, con la collaborazione del Comune di Capandria e il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Fondazione Banca del Monte, si svolgerà domenica 28 aprile, con partenza libera dalle 8 alle 9 dal villaggio allestito al mercato di Marlia. L'edizione 2019 si prospetta, capace di battere ogni record. Sono infatti già state vendute 15.000 pettorine. L'obiettivo è quello di esaurire tutti i 20.000 pettorali disponibili per superare il primato del 2018, quando la quota fu solo sfiorata. Questa edizione sarà un evento a rifiuti zero, green and plastic free. Sarà una marcia completamente plastic free. Già da due anni lavoriamo in stretta collaborazione col Comune di Capandria e con Ascit per rendere la marcia delle ville sostenibile. Lo scorso anno abbiamo introdotto materiali compostabili, in parte. Quest'anno invece avremo tutti i materiali compostabili, quindi tutti i bicchieri, forchette, scodelle per la nostra pasta party. Per dare un senso a tutto questo abbiamo ordinato 100.000 bicchieri compostabili, ma siamo voluti andare oltre, sempre con l'obiettivo di raggiungere la massima efficienza. In questo senso quest'anno presso tutti i ristori, sia quello finale in piazza del mercato, ma anche quelli lungo il percorso, non utilizzeremo bottiglie di acqua in plastica, ma tanniche e cisterne di acqua. Per questo voglio ringraziare gli autieri della Luca e Garfagnana che metteranno a disposizione due cisterne, ma anche altre associazioni e singoli che ci forniscono cisterne con capacità importanti, di 500-1000 litri per far fronte a questa necessità.